Buongiorno a tutti, siamo qui dal Positano News. Abbiamo l'onore di parlare stasera con Wendy Perón del giornale Dance Magazine, che è un noto giornale che si specializza sulla danza. Wendy, qual è il significato del Positano nel mondo della danza? Well, il Positano è molto prestigioso e molto internazionale, quindi le danzatori che vanno questi prezzi sono votati per molto internazionale, io sono uno dei giudici, quindi sono qui come giornalista ma anche come giudice, e sono balle e contemporaneamente. Quindi Wendy sta dicendo che lei è un giornalista ma è anche un giudice che ha partecipato al comitato che ha giudicato questi danzatori provenienti da tutto il mondo, e lei sottolinea il livello internazionale di questo premio di danza, che grazie a Positano ha un significato di gran lunga internazionale. Il livello è eccellente, molto alto, molto alta artistia in tanto la danza e la coreografia. Molto alto per quanto riguarda la coreografia e il livello anche dei partecipatori a questo premio di danza. Wendy, qual è il significato che pensi del termine danza? Danza in oggi è anche in Positano. Hai qualcosa di altro che vuoi dire? Danza è vita, una danza è tutto, per me, per qualcuno che ha spiegato la vita danzando e guardando la danza e scrivendo la danza, ha il numero completo di vita, tutte le emozioni, tutta l'intelligenza, tutto, gioia, sorriso, tutto. Quindi, Wendy sottolinea il fatto che danza per lei significa vita, e vita danza significa tutte le sue emozioni, come tristezza, felicità e tante altre emozioni che Wendy descrive anche nella sua capacità di giornalista, e soprattutto anche di Giugio, come stasera ci ha dimostrato in questo premio di danza. Quindi, Wendy, ci ringrazio molto per il tuo tuo talk, che voleva share con noi laychiatura di Positano News, e grazie Wendy per la tua intervista, e ti agiamo un grande scrittura di giornalista. Grazie, è un dottor per essere qui in Positano, è stato bellissimo. Ok, grazie. Wendy, li ricordi Positano News? Alla web. Alla web, non liha italiano. Non li ha italiano, ok. Ciao. Grazie.